Due giorni dedicati alla scienza e ai giovani studenti che giovedì e venerdì prossimo nello splendido parco di Villa Sabucchia Pescara daranno il via alla settima edizione di Scienza Under 18. Bellissima iniziativa che sosteniamo perché la scienza è cultura e quindi sarà un piacere a me unire le due idee che la cultura pubblica istruzione per questo bellissimo evento. Sono coinvolte le scuole che parteciperanno a incontri, laboratori, vivranno in prima persona la bellezza della scienza, l'amore per la cultura è un'attività studente straordinaria che integra il loro percorso formativo e li apre anche alle bellezze della vita e della scienza. Tra l'altro in un posto molto molto bello il parco Sabucchi, uno dei gioielli della nostra città che cerchiamo di utilizzare il più possibile e dove portare i ragazzi se non in un bel parco a parlare, a giocare, a vivere la scienza. Quindi sicuramente nuova iniziativa che avrà un grande successo, Scienza Under 18. Una vera festa fatta di giovani insegnanti e creatività accompagnata dall'entusiasmo generato dall'insegnamento che diventa esperienza e così proprio nella settimana della contestazione della riforma sulla scuola del ministro Giannini spiega di Iacovo c'è qualcosa ancora da salvare. Diciamo che sono molte le questioni legate alle insoddisfazioni giuste di molti docenti sulla riforma sulla scuola. Il nostro piccolo cerchiamo di far sì che l'offerta che possano i bambini sia più ampia e eterogenea possibile e cerchiamo di fargli appassionare alle cose che fanno, al loro studio, alla cultura, all'arte, alla scienza. Cerchiamo di far sì che la scuola non sia un posto in cui queste cose vengono inflitte ma in cui si possono amare delle cose belle sia a scuola che nel resto della vita.